Non a me piacciono così. Brutto! Ballerino? Vabbè, questo lo abbiamo chiamato Roberto. Roberto Bolle. Bollicino. Bollicino. Com'è carino, con la coda torcigliata. Troppo bellello. Budino. No, Budino... Mi tolgo la scarpa. E gliela lancio. Spritz. Spritz. Spritz, forse l'abbiamo avuto. Ballo polca. È polca però è fiii. Tango, meneito. Meneito! Ah, è vero. Meneito ti piace? Reggaeton. No, non mi piace. Meneito ancora ancora. Meneito si può fare, però... Qualche ballo saltato, che cosa... Che fista? Kickboxing. Kiki. Qual è quel ballo molto movimentato? Zumba? No! Quel tipo rock, cioè quei balli anni... Come dove è? Twist. Twist l'abbiamo avuto, la twist. Quelle twist? Vabbè, twist. Sì, no, no. Meneito i balli, quello là, tipo... Tipo gris, come si può fare? Musical. Eh, no, andate, erai di più di qua. No, no, no. Tip-tap. 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 Tip-tap-tap. Adottate tip-tap-tap. Guarda! Mi lancia io là. È troppo bellino, comunque. Qual è Genilla Carogna? È troppo bellino. Guarda! Qual è carino. Ok. Qua, due. Stai incazzata. Guarda, guarda, sto culetto. Cos'è? Cos'è? Mia, è mia. Guardala. Ma lui aspetta sto con altri cani in box o no? Penso di sì. Quello di là c'è un altro giochino. Quanto è il carruzzo. Proprio quel piocchetto sembra proprio un bingo, sai? Si, che è una fantasia, mostro che abbiamo lo bebè. Che è la ballena? Neonato. No, 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 no. Qualche cosa ti rispette. No. Comunque qualche cosa d'altro. Vediamo un po' che bandi... I bandi... Ecco, bravo l'assistente. Io sono ok Google. Ok Google, ok viaggio. Sai che sarebbe comodo però. Eh beh, guarda. Il nome di qualche ballo. Ora vedo. Stai cercando l'acqua... Ah, l'ha trovata. Stai cercando l'acqua. Ah, l'ha trovata. No, no. mamma mia che spasso però penso che adesso è arrivato il momento di fermarlo un attimo e fargli due foto decenti che il video si vede che è carino però adesso ci vogliono le foto vero? diciamo che qualche foto mentre gioca è carino però ci vuole anche qualche foto in cui si vede meglio non è un cane serio ma è troppo bello è troppo caro ma se lo sa massimo volta no qualcosa di più piccolo almeno lo sento io guarda le orecchie ma si bello tu aspetta quando fa così vista in attenzione così così eccola il dottore ha trovato qualcosa? allora merengue mambo mambo l'abbiamo avuto mambo si tango mambo e mazzurca era carino mambo buki 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 carino buki già l'avete avuto? no e allora questo mi piace guarda mi ti hai messo con le zambe di pietro ah 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 si dai poi chi altro? charleston charleston no charleston lamento basodoble tiptasto questi due non sono buki 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 mi piace ma sei indecente con quelle zambette così si sta proprio gliel'hai fatta la foto così? si come mi piace quando fanno così no ti ammetti di vicino a lui proprio muovi basta che ne vido no sta qua ti serve è pesante è pesante seduta sotto si non gli toccare niente però go polle zampe tu orda oh mamma mia